Salve a tutti messeri, benvenuti su The Zion Theory, io sono Spazio. Oggi andiamo a descrivere, ad elencare quelle che saranno le uscite di settembre su Netflix. Un mese di settembre piuttosto interessante, con delle uscite particolari da tenere sott'occhio. Ne ho selezionate 5, quindi questo non sarà un elenco completo di tutte quelle che saranno le nuove uscite presenti sul catalogo di Netflix, ma ho individuato quelle più interessanti, come dicevo prima, quelle soprattutto che rappresentano ovviamente delle produzioni originali Netflix e sono al debutto sulla piattaforma, quindi non vado a descrivere, a parlare di serie, di titoli che hanno già alle spalle altre stagioni, quindi qui parliamo proprio di prodotti che esordiscono su Netflix a partire da settembre. Bando alle ciance, come dicevo, ho selezionato 5 prodotti, 2 film e 3 serie, iniziamo, iniziamo dai lungometraggi. Il 16 settembre abbiamo Le strade del male, un film diretto da Antonio Campos e basato sull'omonimo romanzo di Donald Ray Pollock, un film che si preannuncia violento, crudo, dai toni piuttosto macabri, e ci descrive le vicende di alcuni loschi figuri che gravitano intorno al giovane, al giovane Harvey Russell, che altri non è se non Tom Holland, che molti conosceranno ovviamente nei panni dell'uomo ragno, negli ultimi film usciti per quanto riguarda il Marvel Universe. Il film è ambientato in Ohio e temporalmente siamo fra la fine della seconda guerra mondiale e la guerra nel Vietnam. Vi ricordo che Le strade del male uscirà su Netflix il 16 settembre. Passiamo al secondo film di questa rassegna, il secondo ed ultimo film di questa rassegna delle nuove uscite su Netflix. Sto parlando di Enola Holmes, incentrato sulla figura della sorella minore del celebre investigatore Sherlock Holmes, quindi andiamo a vedere la storia e le vicende della piccola sorellina di Sherlock, interpretata da Undici di Stranger Things, quindi da Millie Brown. Seguiamo le vicende della piccola Enola Holmes, che quando scopre della scomparsa della madre, si mette sulle sue tracce e evidenzia, mette in mostra tutte quelle che sono le sue qualità investigative, di certo non minori rispetto a quelle ben più celebri e note del fratello maggiore. Nel cast, oltre alla star di Stranger Things, Millie Brown, abbiamo anche Henry Cavill, l'idolo delle fanciulle, che sappiamo bene essere Superman nella trasposizione cinematografica dell'eroe della DC Comics, e anche per aver interpretato Geralt di Rivia in The Witcher, che è una delle produzioni originali Netflix. Quindi Enola Holmes che uscirà, sarà disponibile su Netflix a partire dal 23 settembre. Adesso accantoniamo i film, abbiamo detto questo paio di lungometraggi da tenere sott'occhio, e passiamo alle tre serie di questo elenco, alle tre serie che vi consiglio da seguire in questo mese di settembre. Il 3 settembre arriva il giovane Wallander, che si basa sulle vicende del celebre commissario svedese Kurt Wallander, interpretato anche in una produzione della BBC da Kenneth Branagh in passato. Questa volta invece siamo alle prese con un giovane, per l'appunto, come dice lo stesso titolo della serie Wallander, al suo primo caso investigativo. Quindi siamo proprio agli albori della carriera di Kurt Wallander, personaggio creato ovviamente dallo scrittore Henning Mankell. Per tutti gli avanti del genere investigativo e poliziesco, da non perdere o quantomeno da seguire con attenzione questa serie sul giovane Wallander, in uscita il 3 settembre. Il giorno successivo, ovvero il 4 settembre, esce Away con Hilary Swank. Hilary Swank è nota soprattutto per il film di Clint Eastwood, Million Dollar Baby, ma per aver interpretato miriadi di altri ruoli per essere un'attrice di sicuro affidamento e di grande talento. Questa volta la bravissima Hilary Swank interpreta l'astronauta Emma Green, che è in missione triennale su Marte, e qui siamo alle prese sia con una missione importantissima per il futuro dell'umanità, ma soprattutto c'è anche un focus sul rapporto fra Emma Green e i suoi familiari, in particolar modo la figlia adolescente e il marito. Quindi c'è questo duplice aspetto legato sia alla sua missione nello spazio che alla versione, diciamo, all'aspetto familiare, quindi più sentimentale, della vita di Emma Green. Away in uscita il 4 settembre su Netflix, anche questo è un prodotto da non perdere, soprattutto perché, insomma, c'è un'attrice del calibro di Hilary Swank all'interno del cast. Concludiamo questo trittico di serie con Ratched in uscita il 18 settembre, basato sul celebre, sul celeberrimo romanzo Qualcuno volò sul nido del cuculo, o cuculo che dir si voglia, insomma, fate voi, adesso non mi ricordo di preciso qual è la pronuncia esatta. Stiamo parlando di una serie drammatica barra horror, incentrata sulla figura di Mildred Ratched, interpretata da Sarah Paulson, questa infermiera che entra a far parte dello staff medico all'interno del centro psichiatrico nel quale si ambientano le vicende di questa serie. Una persona, un personaggio in apparenza tranquillo, ma che ben presto rivelerà la sua natura malvagia. In questo caso, ovviamente, gli amanti dell'horror tengano particolarmente in considerazione questa serie in uscita il 18 settembre su Netflix. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, vi ho consigliato questi 5 prodotti in uscita a settembre, un settembre che, come ho detto ad inizio video, si preannuncia particolarmente interessante, insomma, ce n'è di carne al fuoco, ce ne sono di cose da vedere, un po' di tutti i gusti, quindi staremo a vedere poi se ovviamente le attese verranno mantenute oppure no. Insomma, ce lo sapremo ridire sicuramente nel corso del mese di settembre. Io prima di salutarvi vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace qui sotto, qualora il contenuto sia stato di vostro gradimento, di seguirmi sulla pagina Facebook e soprattutto sulla pagina Instagram. Anche per oggi abbiamo finito, un saluto a tutti da Spazio.